Due persone risultano indagate per la morte di Nico Mastropietro, il 26enne originario di Sora, in provincia di Frosinone, residente a Balsorano, morto dopo essere stato colpito da sulla testa da un albero mentre stava tagliando la linea in un bosco tra teleta e guardia grele. Si tratta di GM, di 52 anni, padre del giovane, e MDN, 25enne di Carpineto della Nora, in provincia di Pescara, rappresentante legale della ditta che si è giuricata all'appalto per il taglio della legna. I due sono indagati per omicidio colposo, reato che il sostenuto procuratore Aura Scarsella ha provenuto a notificare agli indagati per consentire lo svolgimento dell'autopsia fissata per venerdì mattina e affidata all'anomopatologo dell'ospedale di Sulmona, Luigi Miccolis. I primi accertamenti svolti dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro avrebbero accertato che il ragazzo, impegnato a lavorare per conto dell'azienda di famiglia, non abbia fatto in tempo a spostarsi e sia stato colpito al capo dal pesantissimo tronco. Il giovane sarebbe morto sul colpo. L'intera comunità di Balsorano, dove il giovane era anche assessore comunale, è rimasta sotto shock. La morte tragica e improvvisa si è rivelata per tutti. Un fu minaccio al sereno.